Abbiamo fatto un gol in un momento in cui eravamo in difficoltà, diciamo che quel gol ci ha dato un po' di respiro. Pensavo che oggi la portavamo a casa, però purtroppo dopo un secondo tempo siamo abbassati un po', abbiamo cercato un po' di atteggiamento e secondo me quello non ci mancherà mai per la nostra squadra. Bisogna reagire, il campionato è lungo, quindi ora andremo a Parma, dobbiamo cambiare atteggiamento, sicuramente partire dal primo minuto ci andrà a mille e provare a fare le grandi partite, questo secondo me deve essere la cosa da fare. Ogni partito sono sempre lì a darci una mano, anche quando perdiamo, anche nelle scorse partite, e ora tocca a noi e farli felici. Il pubblico ci sta che però un po' così, perché giustamente non sta arrivando questi risultati, però noi penso che abbiamo sempre fiducia e far cambiare questi fischi in applausi. Andiamo al frontario è una squadra molto forte, però io penso che se mettiamo l'atteggiamento giusto noi ce la possiamo giocare con chiunque perché abbiamo qualità, quindi se ne mettiamo alla pari atteggiamento con le altre escono fuori le nostre qualità. Grazie a tutti!